Allora diamo inizio a questa ottava edizione del Festival della Cipolla Rossa qui a Campara San Giovanni, è l'ottavo anno che stiamo organizzando questa manifestazione, quest'anno abbiamo voluto per così dire allargarci, la manifestazione è sempre il 13 di agosto ogni anno a data fissa, quest'anno abbiamo voluto fare 11, 12 e 13, l'11 faremo questa sera un convegno sulla Cipolla Rossa, domani faremo di nuovo una degustazione sempre di Cipolla Rossa cucinata in svariati modi e il 13 sarà la sagra definitiva, la sagra vera e propria, il Festival della Cipolla Rossa che quest'anno dovrebbe entrare nelle sagre di qualità come prima sagra di qualità calabrese per quanto riguarda il marchio UMPLI, prima sagra di qualità, prima prologo calabrese ad ottenere il marchio di sagra di qualità. domani avremo come dicevo due ispettori per quanto riguarda la sagra di qualità, verranno a giudicarci per come viene organizzata questo Festival della Cipolla Rossa, cosa possiamo dire? Ci risentiamo per l'anno prossimo con tutti voi, speriamo che sarete tutti presenti qui a questa manifestazione, noi della prologo ce la mettiamo tutta, è un impegno, credetemi, un impegno fuori da ogni immaginario, è una manifestazione che ci impegna per circa una ventina di giorni, ma una ventina di giorni continuativi, oltre al lavoro che poi fai tutto l'anno per preparazione a questa manifestazione, è una cosa veramente grossa. Grazie.